Un'ora di alluvione ha distrutto quasi per intero Villa San Sebastiano nella Marsica. Una pioggia trasformatasi in uragano, un'immane colata di pietre, acqua, fango da due canaloni del monte Aurunto. Subito accorsi gli operai di un vicino cantiere di lavoro e le squadre dell'ente Fucino. Si rimuovono serramenti sbarrati dall'alta fanghiglia. Si sa di gente dovuta fuggire per la cappa del camino. A quelli dei capoluoghi di Abruzzo si sono aggiunti i pompieri di Roma. Tre i morti, otto i feriti. La distribuzione dei viveri è stata subito organizzata. Giunti sul luogo Romita e il sottosegretario Natale. Vestiario viene offerto a cura del sindaco di Avezzano e della Croce Rosso di Roma. Il vestiamo è scampato, c'è il capascolo tra le macerie. Una colomba è uscita come dopo il diluvio.